Buonasera, bentornati qui al punto negli studi di Telefriuli. Il punto di questa settimana sarà un punto politico-economico e per farlo ho invitato qui l'amico Presidente di Confartigianato Telefriuli, Graziano Tilatti. Buonasera a tutti i telespettatori. Carissimo Presidente, la Giunta Fedriga ha iniziato il suo percorso e su questo percorso è arrivato subito un problema che non è da poco, cioè quello della Camera di Commercio Unica, Pordenone, Udi, insomma questa diatriba continua addirittura con carte bollate. Al di là della situazione che si è determinata in questa riforma che non era la riforma principale che serviva al mondo delle imprese, ma visto che ce l'abbiamo e quindi è scoppiata così anche perché un'attenzione particolare la deve avere Udine nei confronti di Pordenone nell'unificazione delle due Camere di Commercio. Dobbiamo capire che gli amici pordenonesi non è che ne fanno un motivo di scontro contro Udine, ma nella difesa di ciò che era stata l'identità del territorio. Si sentono un po' scippati. Si sentono un po' scippati di quella che è stata la provincia, che è stata una grande battaglia conclusa nel 68 e quindi intorno a questo unico ente che era rimasto, che difendeva i confini della vecchia provincia, non solo il mondo economico ma anche tutto il mondo istituzionale e locale si è ritrovato e quindi ecco io mi auguro che assieme anche alla politica, in questo caso anche alla regione, di trovare i momenti di equilibrio per superare questo momento, proprio tenendo conto che il mondo che rappresenta l'economia deve sapere ancora essere più attento, deve guardare a ciò che avviene e utilizzare tutta la comprensione, la capacità di mediazione per tenere unita questa regione. Ecco, quindi mi pare che sono motivi un po' di scontro che portano a più che altro problemi anche identitari, di provincia, dicevi bene il fatto che Pordenone si sente un po' scippata via la provincia, mi pare che avevano addombrato anche l'idea di accorparsi al Veneto con Venezia eccetera, quindi questo sarebbe un bonus per la regione un po' una disgrazia diciamo. Ecco, noi in questo momento anche dobbiamo riuscire a trovare gli elementi che uniscono questa regione, perché la regione Friuli-Venezia-Giulia nasce per porre fine, per ristorare questo territorio di alcune situazioni di carattere politico che si erano verificate nella seconda guerra mondiale, ma l'ultimo tassello i nostri padri erano riusciti a trovarli nella creazione della provincia di Pordenone. Quindi le tre anime, la Friulana, la Giuliana e quella che si identifica un po' col Veneto avevano trovato il giusto equilibrio. Io credo che forse è stato un errore l'eliminazione del Tukur delle province fatta in questo modo perché rischia di creare veramente un grande vulnus all'interno di questa regione. Tra parentesi c'è da dire che da sempre una regione piccola come la nostra, senza unità si presentano le difficoltà, no? Certo, se teniamo conto, 1.220.000 abitanti, con 4, meno, non parliamo poi di rispetto a Roma, quindi abbiamo bisogno di trovare i motivi che ci uniscono rispetto a quello che ci dividono. Io credo che se sapremo, e lo sapremo fare, trovare i motivi dell'unità, credo che questa regione avrà ancora un futuro, un presente futuro anche in termini economici alla grande. Se diversamente continuiamo in queste contrapposizioni, credo che poco possiamo attenderci. Senta, da poco il governo ha varato questo decreto dignità, questo decreto che sta creando un po' anche di polemiche e qualcuno dice ma qui si va a perdere lavoro anziché acquistare lavoro, no? È un decreto che porta in campo anche il divieto di giochi d'azzardo, porta in campo anche il fatto che una società non deve decolezzare all'estero, portare insomma i suoi know-how all'estero, ma comunque mette in campo anche una questione economica che gli imprenditori, per esempio Confindustria, dice non va bene. Per quanto è rivolto al nostro campo? Diciamo, io dico che lo spirito con cui il governo ha affrontato quel tema del lavoro ha degli elementi positivi nella misura in cui dice bisogna ridare dignità al lavoro, al lavoratore e prima al lavoro e poi ai soggetti attivi che sono i lavoratori e sono tutte le imprese che si stanno dietro e quindi alcune forme di sfruttamento, di precarietà senza altro andavano in qualche modo regolamentate o riportate entro l'alvio della legittimità. Quello che secondo noi impatta, secondo noi piccole imprese è non garantire delle forme di limitare il lavoro a tempo determinato. Avrei in qualche modo garantito, magari tutelato ancora di più questi lavori, queste persone che vengono chiamate a tempo determinato, avrei anche chiesto alle imprese un maggior contributo alla solidarietà per garantire poi nei momenti in cui non lavorano anche un minimo vitale. Questo avremmo fatto, ma quello per combattere i fenomeni distorsivi di alcuni grandi gruppi che poi operano dal fuori, che hanno forme di sfruttamento al limite della legge. Ecco, io credo che non si possa confondere. Diciamo che l'artigiano non delocalizza. Non delocalizza e noi lavoriamo sul territorio, rispondiamo sul territorio, la nostra economia possiamo anche definirla circolare perché tutta torna all'interno di questo territorio. E anche quelle nostre, non ci sono poche aziende che fanno innovazione, che esportano, poi tutto ciò che deriva dal loro lavoro lo riportano su questo territorio e creano un ulteriore sviluppo potenziando le loro aziende. Quindi c'è una necessità di un'analisi forse più approfondita, di sentire i rappresentanti di questi mondi per capire, per fare una legislazione che vada bene. Certamente bisogna ridare, noi siamo i primi a dire che bisogna ridare dignità, ma in dignità al lavoro e ai lavoratori in termini anche di potere d'acquisto dei salari. Ecco, diciamo che mai come adesso, diciamo a distanza di 40-50 anni, il lavoro diventa centrale per la dignità anche della persona, ma soprattutto abbiamo anche questo problema dei migranti che qualcuno dice che servono, qualcuno dice che non servono, qualche comparto va in sofferenza, qualcun altro no. Lei che ha un osservatorio molto preciso, ci sono dei migranti che lavorano nei vostri comparti, ma ci sono i comparti anche che soffrono, che sono costretti a lasciare a casa le persone. Diciamo che oggi anche la polemica sull'immigrazione viene un po' mistificata, dovremmo analizzarla per settore. Ad esempio in alcuni settori, l'immigrazione che viene dal mondo dell'est è quella che ha permesso al mondo dell'edilizia o del comparto di edilizia di avere ancora un futuro, perché diciamo... Da noi non si trovano malattori, non si trovano falignami, ma anche perché mentre diciamo per inquisti in questi paesi c'è ancora questa tradizione, quindi alcuni innesti non possono che far bene al settore. Però quando parliamo di immigrazione non è il termine dell'emergenza che stiamo vivendo in questo momento, in cui l'Europa fa finta di non vedere e per anni ci hanno lasciati soli a gestire tutta questa emergenza, perché anche io credo che quando di fronte a fenomeni di massa così invasivi non credo che possa rispondere solo l'Italia. Su questo certamente hai ragione. Ma senta, per il comparto un aiuto viene dato anche da questi fondi comunitari, no? Ecco la regione nostra ha una programmazione di un certo tipo, un certo livello, ma come vede adesso questi fondi che stanno andando avanti? C'è un problema di fondo? Scusi la parola. Io credo che questi piani di investimento settennali che fa l'Europa, credo che i primi sono stati un po' distanti da quelle che sono le esigenze in particolare del nostro modello economico. Diciamo non in prospettiva, ecco. Lo sono stati, adesso lo sono un po' meno perché la regione ha fatto in questi anni, diciamo tutti gli attori che hanno avuto il compito di gestire la regione hanno cercato di facilitare l'accesso del sistema economico nostro a questi fondi. Sono dei fondi, cioè l'Europa quando riuscirà a diventare un'Europa anche sotto il profilo culturale, sotto il profilo politico, che comincerà a capire che i sovranismi possono portare dei voti nel medio periodo, ma poi alla fine una programmazione, anche alla luce delle dichiarazioni seguite anche di stamattina del Presidente americano in cui si dice che l'Europa è un pericolo per l'America e per la Russia sotto il profilo commerciale, credo che l'Europa deva interrogarsi qual è il suo futuro. Un futuro che non può e che essere un futuro di collaborazione, di cooperazione a livello culturale, politico ed economico. Che poi i dazzi portano sempre dalle guerre commerciali prima e dalle guerre dopo, quindi diciamo così una soluzione deve essere trovata, anche se l'Europa pare non sia in grado di farlo, perché vediamo che i paesi tradizionali, quelli che in qualche modo hanno costruito l'Europa, Germania, Francia, Italia, in questo momento hanno visioni diverse, politiche diverse, il nostro governo mi pare che ha puntato i piedi non solo sui migranti, ma anche sui fondi comunitari. Io credo che il governo bene ha fatto a puntare i piedi in queste due grandi tematiche che sono l'economia da una parte e la gestione di questa grande emergenza in cui l'Italia era lasciata sola e quindi far vedere che ci siamo, che abbiamo una capacità di ragionamento, che questo problema debba essere risolto assieme, anche cercando di non fare polemiche, confondere l'abbandono da parte dell'Europa con un venir meno del senso di solidarietà del popolo italiano, che questo non è, ma che io non mi identifico in questa cosa, non ci identifichiamo in questa mancanza di solidarietà, ma certamente l'Italia ha fatto bene a rispondere in una certa maniera, perché questo è un problema che non può affrontarlo uno Stato membro della comunità europea da solo, quindi ci vuole cooperazione, modo di visione e capacità di affrontarlo. Siete, ancora due domandine perché abbiamo già sforato come al solito. Allora, la prima volevo chiedere sulla questione dell'Inps, questa diatriba tra Boveri e i due vicepresidenti, in qualche modo si dice ma tu non vuoi riformare la legge Fornero, per cui dice Salvini vattene, l'altro lo ferma, è un po' il gioco delle parti, ma il vero problema è proprio la legge Fornero che è riformabile, sembra che sia riformabile o quantomeno difficile da riformare, diciamo così. Cosa ne pensi di questa diatriba? Questa diatriba è frutto da una parte della necessità di tenere i conti in ordine da parte non solo dell'Italia ma anche dell'Inps, dall'altra una giusta aspirazione da parte del nuovo governo di trovare delle soluzioni che modifichino senza devastare i conti pubblici. Questo però, diciamo, io credo che questa polemica fatta così sia più per i media, per alcune scelte che poco hanno a che fare, cioè probabilmente qualche figura poco che hanno a che fare con i veri problemi del mondo del lavoro. Quindi sta nel gioco delle parti queste due contraposizioni, però credo che affrontare i numeri non possono essere messi in discussione. Quindi se la politica cambia, vogliamo un po' di più flessibilità anche sulle uscite per favorire gli ingressi di nuove leve nel mondo del lavoro, sappiamo che se facciamo questo dobbiamo togliere qualcosa altro e quindi dobbiamo programmarci. Ma io credo che le persone coinvolte sono troppo intelligenti, troppo preparate per non capire che lo scontro, al di là dei media, poi deve portare inevitabilmente a un confronto sereno sui dati. Senta, siamo in chiusura, chiusura. Un appello che si vuole fare è un appello a Fedriga e al nuovo, diciamo così, assessore alle attività produttive Bini. Beh, un appello a Fedriga non possiamo solo che augurargli buon lavoro, perché più Svide vince lui, più la Regione ha presente e futuro. Al nuovo assessore alle attività produttive, anche a lui un augurio di buon lavoro, che si trovi a gestire sempre meno situazioni di crisi e più situazioni di sviluppo. Così tutti, se le cose vanno in questo modo, se invertiamo questi trend, ecco che la Regione può guardare tranquillamente al suo presente e futuro. Bene, allora con questo appello dal Presidente Tilatti, che ringrazio per la disponibilità, naturalmente ormai sta diventando una B2A in questa trasmissione, perché ci porta sempre un osservatorio, i dati di un osservatorio molto interessante. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e naturalmente anche alle prossime trasmissioni, subito dopo il telegiornale, di Telefriuli. Buona serata. Buonasera. 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 Buonasera.